Omaggio al partigiano Gerolamo Vozza al cimitero monumentale San Brunone di Taranto da parte del Comitato per la Qualità della Vita. Il presidente Carmine Carlucci fa un appello affinché la loro memoria non cada nell'oblio. Abbiamo voluto e vogliamo rendere omaggio ad uno dei 21 partigiani tarantini che purtroppo non vengono ricordati e questo è un errore che noi ci auguriamo che nei prossimi anni possa essere superato. Facciamo appello al sindaco di Taranto perché per esempio anche questo nostro tarantino, questo eroe partigiano ucciso dai fascisti nel 44 possa essere omaggiato e ricordato insieme ai 21 i cui nomi sono affissi in una targa a Palazzo di Città. Un momento di riflessione e un monito alle nuove generazioni affinché il sacrificio non sia dimenticato. Se noi recuperiamo la memoria di quelli che si sono battuti per la libertà, la democrazia nel nostro Paese certamente faremo in modo che i nostri giovani non solo possano ricordare questi eventi tragici ma guardare con fiducia nel futuro.